L'inaugurazione del Liburna ha rappresentato l'occasione per la compagnia di illustrare alcuni punti strategici e importanti novità per la prossima stagione. Toremar ha stilato un protocollo d'intesa con il comitato promotore celebrazioni bicentenario napoleonico, il cui capofila il comune di Portoferraio, volto a promuovere e celebrare il bicentenario napoleonico attraverso eventi ed iniziative che avranno come sede proprio l'isola d'Elba. Toremar diventa quindi l'official carrier di tutte le iniziative promosse dal comitato promotore celebrazioni bicentenario napoleonico e per i prossimi dieci mesi sulla fiancata delle proprie navi esporà il logo studiato ad hoc per la promozione degli eventi in questione. La partnership è stata siglata tra le parti proprio lunedì sera a bordo della Liburna. Con questa applicazione del logo è cominciata la promozione del bicentenario, è cominciata insieme a Toremar, quindi siamo estremamente soddisfatti di aver firmato questo protocollo che non solo dà vantaggi economici ma perché è un'opera di promozione sempre, tutto l'anno e per gli anni a venire della nostra città, della nostra isola. Quindi siamo estremamente soddisfatti e sono molto onorata di aver sottoscritto questo protocollo. Oggi è stato firmato un protocollo d'intesa molto importante in quanto Toremar vuole essere parte attiva per la promozione degli eventi napoleonici che si svolgeranno da quest'anno fino all'anno prossimo. Quindi assolutamente vogliamo essere collaborativi e parte attiva per portare il maggior numero di persone possibile all'Elba ed allungare soprattutto la stagione. Grazie a tutti!